Sono Nello D'Aurea, ho 39 anni, mi candido al sindaco della mia città. Il Museo della Pasta non sarà soltanto un museo, lì ci sarà il riferimento principale, ma poi un cittadino potrà passeggiare tra le strade della città e vedere tante tante altre cose che si intrecciano al museo. Quella struttura sicuramente farà da volano anche un percorso di formazione, una scuola di cucina. Immaginiamo degli chef che si formano, una scuola di cucina a Gragnano, capitale della pasta, ma soprattutto una scuola di formazione di secondo livello per i produttori dell'arte bianca, per le antiche maestranze di produzione della pasta. Oggi Gragnano può definirsi la Silicon Valley della pasta, in qualsiasi casa, anche dove effettivamente di generazioni e generazioni ci sono state dei pastai. Oggi i figli, anche se magari svolgono qualche altra attività, conoscono la pasta sotto tutte le essenze, tutte le sue sfaccettature. Quindi creare una scuola di specializzazione di arte bianca sulla pasta, questo potrebbe contribuire non solo a potenziare quello che poi è una ricchezza non solo di Gragnano, ma dell'Italia, del Made in Italy, della manodopera specializzata, ma soprattutto a creare un serio sistema di intreccio della domanda e offerta anche di lavoro da parte dei pastifici. Gragnano come capitale del food nel mondo. E quando qualcuno arriva nel nostro territorio deve avvertirlo, deve avvertirlo in tutte le sue essenze. Anche le persone, come dicevo prima, le persone devono acquistare maggiore fiducia su questo, devono avere la consapevolezza della visione strategica che la politica insieme ai cittadini vuole dare al proprio Paese. Grazie a tutti.